Le leggi razziali furono sviluppate da Hitler prima e da Mussolini poi, ma messe in atto da persone comuni, persone come noi, persone che magari furono anche costrette ad arruolarsi. Perché alcuni soldati nazisti, forse, erano semplicemente persone completamente calate nella realtà che avevano davanti, lavorare, cercando magari una promozione ogni tanto. Più che l'intelligenza, credo che allora mancasse la capacità di immaginare che cosa stessero facendo. Non erano affatto stupidi, erano semplicemente inconsapevoli, una cosa molto diversa e forse anche peggiore della stabilità. Della inconsapevolezza, infatti, faceva di loro esseri disumani, predisposti ad entrare di prepotenza nel gruppo dei più grandi criminali di tutta la storia. Siamo sicuri che queste persone fossero davvero diverse da noi? Siamo sicuri che questi, considerati giustamente carnefici, agissero consapevolmente? Ma questi che cosa pensavano mentre partecipavano alla realizzazione di questo estermino? Come giustificavano il proprio comportamento? Perché obbediranno così prontamente agli ordini? Beh, forse, per puro spirito di emulazione e desiderio di carriera, un uomo comune può diventare un ospitato carnefice dei propri simili. Forse anche gesti banali apparentemente innocui, come l'obbedire agli ordini, possono essere lo scheletro della più estrema umanità. E coloro che scelgono con coscienza, rifiutandosi di obbedire, purtroppo, sono stati e sono tuttora pochissimi. Come mai furono così pochi i soldati tedeschi che si ribellarono a questo agomiglio? Basta davvero così poco per trasformare una persona in un mostro? Se davvero il male è dentro uno di noi, l'arroa migliore che una persona possa adottare per difendersi da diventare come loro, è il continuo sviluppo del proprio pensiero. Anna Arendt, descrivendo Adolf Eichmann come l'incarnazione dell'assoluta umanità del male, riassume pienamente questo concetto. Del resto, come si può distinguere il crimine quando si vive nel crimine? Le risposte a queste domande in me non le sappiamo mai. Sappiamo però ciò che hanno fatto, sappiamo ciò che avrebbero voluto fare e sappiamo che fortunatamente non sono riusciti a conseguire il proprio obiettivo finale. Grazie a tutti.